Risorge il progetto Cremona City Hub. Il sindaco Galimberti ha dato il via libera alla vendita di uno dei quattro lotti che dovrebbe ospitare il futuro polo tecnologico della città. Il gruppo Luci di Cremona segnala che l'area interessata dalla futura vendita, che dovrebbe fruttare 10 milioni di euro, aveva già incontrato il favore di Regione Lombardia che per questo specifico lotto ha previsto distanziare un milione e mezzo di euro. La giunta Galimberti ha deciso di portare avanti soltanto uno di questi quattro comparti che è appunto il polo tecnologico. Questo bando che scadrà il 24 di novembre, mi pare, è finalizzato a trovare un soggetto, un'impresa o comunque un soggetto che possa realizzare praticamente questo polo tecnologico attraverso l'acquisto dell'area e una successiva edificazione che potrà essere iniziata subito dato che la superficie è immediatamente cantierabile. Ci piacerebbe sapere gli altri tre comparti che fine faranno, nel senso che questo progetto è stato fortemente criticato da tanti soggetti perché prevede una forte cementificazione del territorio. Oltretutto in questa zona ci sono delle attività che non si sa ancora che fine farebbero nel momento in cui il progetto venisse realizzato. L'area ex a non area copre circa 200.000 metri quadrati adiacenti al centro cittadino e comprende siti di interesse collettivo come lo stadio comune a Lezzini, il parcheggio del foro boario e vari spazi come il vecchio macello, il mercato ortofrutticolo e il mercato del bestiame, aree però di cui non si conosce la destinazione futura. C'è anche un problema relativo al parcheggio. Il progetto prevede l'ennesimo parcheggio interrato a pagamento che vorrebbe sostituire il parcheggio alberato gratuito che è praticamente l'unico vero parcheggio Corona a servizio della città e del centro storico. La vendita verrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa in collaborazione con il CRIT, Cremona Information Technology, consorzio che ha lo scopo di svolgere tutte le attività e le iniziative destinate a promuovere lo sviluppo e il miglioramento delle condizioni professionali ed economiche delle imprese tecnologiche consorziate. Il gruppo Luci sottolinea però che il futuro della vasta area, il cui piano regolatore di intervento era stato adottato dal comune di Cremona il 7 maggio del 2014 sotto la giunta Perri e a rischio. E' stato fatto addirittura una variante generale del PGT per poter meglio accomodare le cose. Sono state allargate le maglie in un certo senso di modo che praticamente non voglio dire che tutto è permesso però insomma si è data un po' troppa libertà di azione diciamo. E questo a discapito del bene comune. Vorremmo chiedere all'amministrazione che intenzioni ha sugli altri tre lotti di questo progetto e soprattutto se ci sarà l'intenzione di favorire davvero la partecipazione dei cittadini, delle associazioni di categoria piuttosto che dei professionisti riguardo a una possibile revisione di questo progetto nel suo insieme.